e lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni e chi ha sete venga chi vuole prenda in dono della vita apocalisse capitolo 22 versetto 17 non tutti sono in condizione da poter dire a cristo vieni per poterlo fare bisogna prima esser venuti a lui da ciò l'invito rivolto da giovanni a chi non è ancora credente ma soffre internamente perché le sue aspirazioni alla pace con dio alla santità alla felicità non sono soddisfatte a sete l'apostolo non fa che ripetere l'invito rivolto da dio ai peccatori che sentono la loro miseria o voi tutti che siete assetati venite alle acque isaia 55 1 se lo vogliono sinceramente essi trovano in cristo il soddisfacimento dei loro bisogni spirituali ottengono gratuitamente la vita che principia fin d'ora e sarà perfetta nel cielo iscriviti al canale